Ciao a tutti, come conoscere un ragazzo in campeggio? Beh, intanto, diciamo, devi far conoscere la tua presenza, far sapere della tua presenza, quindi devi farti vedere, devi frequentare un po' la vita da campeggio, quindi devi cercare, diciamo, di presentarti nei luoghi più frequentati, come la piazzetta, la spiaggia, e poi fare i corsi che vengono proposti, diciamo, se c'è l'animazione nel campeggio, perché è un modo molto facile per farti vedere, insomma. Poi ti conviene parlare con chiunque, pure con la signora, vai a cercare anche la signora anziana, perché la signora anziana magari ha il figlio, ha l'amico del figlio, che ne so, comunque conoscerà, se tu vai dalla signora anziana e fai un po' d'amicizia, non è che ogni tanto magari le porti il caffè, qualcosa così, avrai in modo, molto più facilmente, tanto da capire, no, te ne giri un pochettino, tre o quattro, fino a beccare quella che ha il figlio, il nipote, che ne so, qualche cosa, qualche contatto, potrebbe, diciamo, aiutarti a conoscere comunque delle persone. Quindi non andare direttamente, anzi questo sarebbe un modo più indiretto, perché se tu fai una buona impressione alla signora, che sembra una ragazza a posto, sarà molto più facile. Poi se addocchi qualcuno, ad esempio, qualche ragazzo che ti piace, vedi un po', se per caso è lì, o con la sorella, ad esempio, molto utile anche questo, altre ragazze, se tu, magari c'è uno che è in campeggio con la sorella, o con qualche amica, ad esempio, questo è un altro modo molto utile, tu conosci una ragazza, magari se c'è un gruppo, se lei, questa ragazza qua, ammetti che veramente ha degli amici, non è interessata, e ti può presentare direttamente, in modo molto molto utile. Poi, diciamo, frequenta dei giochi di gruppo, tipo attività di gruppo, tipo il beach volley, ad esempio, perché hai possibilità anche qua di conoscere direttamente. E poi quando hai individuato il ragazzo che ti piace, se si crea un gruppo, una committiva, proponi, ad esempio, di fare una passeggiata serale in spiaggia, anche a diverse persone, non soltanto a lui, ma compreso lui, quando hai individuato quello che ti piace. E poi, insomma, durante questa passeggiata cerca di conoscerlo, senza esagerare, cerca di metterti in mostra, di conoscerlo, e poi nei giorni successivi magari fai qualche piccola cortesia per comunque creare un feeling, un'affinità, farti vedere che sei una ragazza a posto, ad esempio, che ne so, li porti il caffè, la bibita, vedi un attimino come reagisce, insomma. E poi, una volta che l'hai conosciuto, seguiti tutti gli altri video su come conquistarlo. Però questo è, diciamo, utile per conoscerlo rapidamente in campeggio. Poi, se ce n'è più di uno, duplichi la situazione, mantenendo un po' gli scompartimenti separati, in modo tale che puoi scegliere, più possibilità hai, meglio è. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici. Ciao!